Il soccorso, come tutti i soccorsi, sicuramente abbiamo trovato un'imbarcazione in stato di necessità e di difficoltà a mare, era un gommone di plastica, abbiamo ricevuto prima comunicazione dalla Guardia Costiera di questo pericolo a mare e poi abbiamo noi stessi trovato con i nostri binocoli appunto questa imbarcazione in difficoltà, era un gommone di plastica pieno di gente, donne e bambini anche, abbiamo proceduto su istruzioni del centro di coordinamento italiano, abbiamo proceduto appunto a soccorrere questa imbarcazione, ripeto c'erano molte donne e bambini, anche due donne in stato di gravidanza. Hanno rischiato brutto? Diciamo che le condizioni in cui viaggiano non sono mai delle condizioni di sicurezza, perché di per sé le imbarcazioni rischiano di sgonfiarsi in ogni momento, non sono dotate di nessuna misura di sicurezza, non hanno giubbotti di salvataggio, non hanno nulla, quindi sono in costante pericolo di vita.